Questa settimana abbiamo veramente ricevuto tanta posta, io vi sono grato, vi ringrazio anche a nome di Luciano, della Petti, della Maria, di tutti i nostri ospiti. Questa sera vorrei iniziare immediatamente cantandovi una canzone degli anni, sì, torno a 1943-44 e poi diventò un grande successo nel 47-48, ma la canzone fu lanciata dall'anellina, dall'anella Colombo, che è una bravissima cantante di quegli anni e mi auguro di riaverla fra noi, chissà quando, ma non tanto tardi, prima che finiscano questa trasmissione di Amici miei, perché fa parte degli Amici miei anche l'anella Colombo. Intanto vorrei cantarvi questa canzone dedicandola a tutti voi e il titolo è In cerca di te. Grazie. 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 Grazie.